Per noi non cambia nulla, io rimango il candidato alla presidenza della regione per il Movimento 5 Stelle. I candidati che ci sono adesso nelle liste, che sono scaturiti dalle primarie online che abbiamo fatto con i cittadini, rimangono ancora candidati. Io ricordo che siamo l'unico soggetto politico dell'isola che ha fatto le primarie, perché poi gli altri candidati si sono scelti chi a Roma, chi nelle stanze con i segretari di partito all'interno. Per noi non cambia nulla, continuiamo avanti, stiamo facendo una campagna elettorale, fra l'altro puntata in questo momento ad andare a trovare le piccole comunità, in questo caso dei Nebrodi. Siamo qui nel Messinese dove stiamo parlando con sindaci, con cittadini, con agricoltori, con pescatori, con allevatori, con tutti quelli che ci vogliono incontrare in questo momento e stiamo analizzando quelle che sono le mancanze che la regione ha avuto nei confronti di territori vasti. Vogliamo prenderci questa responsabilità di mettere mano ai problemi della Sicilia e lo dico con la sicurezza del fatto che il Movimento 5 Stelle in questi anni ha dato prova qui in Sicilia di poter fare politica in maniera differente senza aspettare che le leggi glielo imponessero. Mi spiego meglio. Noi ci siamo già tagliati il vitalizio, abbiamo già tagliato gli stipendi, non abbiamo mai utilizzato le auto blu, non perché una legge lo imponesse al Movimento 5 Stelle, ma perché noi lo abbiamo fatto prima che la legge ce lo imponesse. Adesso che cosa chiediamo ai siciliani? Noi che ci siamo già tagliati i vitalizi, gli stipendi, le auto blu e i privilegi, vogliamo andare al governo della regione per fare una legge regionale che imponga queste regole a tutti quanti.